Robinson vede al suo fianco l'opportunità di premiare le toti ballistiche di Filippović L'apertura immediata per Robinson, arriva Trelli in angolo, Robinson schiaccia a terra per Filippović Eccolo qui, sorpasso, va verso sinistra, penetra, scarica, murato, palla persa, può ripartire Pesaro Tre contro uno, va sopra il ferro, a due mani, Filippović e poi ricade, malissimo Io in linea di fondo, Filippović ha tantissimo spazio, quarta tripla pesarese del quarto Cambio accettato dai piccoli veneziani, passa in attacca Abramos dall'altra parte Filippović che prende la mira, altra tripla, la quinta di questo quarto Filippović